E' dalla bora chi è? Un fuori classe per me, se provi a stargli dietro, t'vena di arre. E' dalla bora lo sa, noi siamo in serie A, coi chili da fuori aria lui ci fa sognar. Da lontano viene qua giù, i tifosi lo amano già, sempre il nostro resterà. Tu sei re del centrocampo, sei come un lampo, al momento giusto tiri tu, e la rete si gonfia di più. E' dalla bora chi è? E' dalla bora chi è? Grazie a tutti.